Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega Nord, il PD sembra aver detto sì alla commissione d'inchiesta per il Forteto per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità politiche, chiede però la presidenza della commissione. Finalmente ha deciso di partecipare, di darci questa possibilità di avere nuovamente una commissione d'indagine. Trovo strana invece la richiesta di presiedere questa commissione. Generalmente le commissioni speciali d'inchiesta vengono affidate alle opposizioni, secondo me c'è la volontà politica di non far emergere verità storiche e politiche di copertura di questa struttura del Forteto che per anni è stata coperta dal PC, dal PDS, DS e ora PD. Chiederete voi la presidenza della commissione? Noi sicuramente chiederemo che vada alle opposizioni e poi cercheremo un accordo all'interno dei gruppi che compongono le opposizioni. Il Movimento 5 Stelle ha già annunciato che chiederà l'istituzione di una commissione d'inchiesta invece sul Monte dei Paschi. Voi firmerete quella richiesta? Era anche nel nostro programma elettorale quindi sicuramente sì che la firmeremo. Claudio Borghi intanto capogruppo anche della Lega Norda in Consiglio regionale è stato eletto portavoce dell'opposizione, solo del centro-destra però. Ci sarà modo secondo voi di coinvolgere in alcune iniziative anche le altre opposizioni in Movimento 5 Stelle e Toscana del Sì di fattori? Assolutamente sì, innanzitutto ricordo è stato eletto portavoce dell'opposizione da Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia. L'altra settimana Claudio Borghi aveva addirittura offerto una turnazione per metà legislatura al Movimento 5 Stelle che non ha accettato, addirittura ci ha accusato di andare a caccia dei poltrone quando invece sono stati loro nel primo consiglio regionale che hanno rivendicato posti all'ufficio di presidenza.